Secondo le statistiche di youtube solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora, grazie! Dillo così, con quella forza che ha solamente, che è puro di mente Torna indietro, andando all'indietro, questo sasso Con la macchina l'avevo fatto, se andavo dritto per dritto con la macchina l'avevo fatto Con il pollo indietro! Nooo, eri tu quello al contrario! Dimmi te no! NMFFF NMFFF Dammi in 4, sei puntato! Dammi in 4, ma che fa? Dammi in 10, sei puntato! Tu non metti in 10, sei puntato! Eccolo! Eccolo! Non lo volevo aprire! Dio cane! Ma se c'ho il gamepad non dovrebbe funzionare il joystick? Il mouse! Quanto sei bello quando ti spaventi! Sembri un meglio! Riga! Mi ha chiamato la Fatina, ha detto muo esce il 15! Eccolo! No, dove è andato? Ha uscito il 15 veramente! Ah ragazzi ma facciamo meno soldi! Infatti sono curioso di vederlo a tuo cazzo del bonus! C'è! Queeeese! Quella è sul balcone! No ragazzi! Non so moltiplicatori! Dragon! E sulle linee! Queeeese! Ma no! Ma ha rotto tutto! Infatti ma che cazzo succede? Mettiamo di silenzio! Oh! E se sei morto! Non me lo fa! Non sto più schivando by the way eh! Non sto più schivando fratello! No! Mi so triggerato! Sì vabbè ragazzi! Dai! C'hanno 6 minuti! C'è la webcam! Niente sta mettendo il filtro! Ah! Questi gobi! Oh! Che brutto! Ha preso la roccia dietro! Cos'è successo? Anzi no Marzo tu non hai capito! Prima io vado a mettere il filtro del puffo e non prende la mia faccia ma prende la faccia della roccia dietro e se muovevano... Ah va bene nel frattempo che non si sa mai! Ma ha scritto quello dell'AirBisbee Sì ma c'è Donna rossa che porta a sella, Donna rossa questa c'ha una sella... Ok. Va bene nel 5! Come il 5 per cento... Jamma? Jamma? Ma io non l'avevo visto! Jamma, io non l'avevo visto! Jamma, io non l'avevo visto! No! Figa! Oh, se intanto ti calmi! Intanto non... Ma dai, dai, chi è? 37 precisi, tirali fuori dal cappello! No, ho provato ad entrare da telefono su Eurobet, ma non cambia letteralmente un cazzo! Eh, io vorrei guardare solo da Eurobet, cioè, per capire sta cazzo di cosa! Eh, non cambia letteralmente nulla! Ho provato anche... Vediamo se provo ad entrare alla suite! Con il tuo body, round and round, into the night... Ma si è teletrasportato durante il botto di Tommy Goblino! Eh, la roccia... La roccia... La roccia ti guarda in maniera incandescente, ti guarda! Aristo la crema! Buonasera! Prima di andare qua... Vado a mettere Missing Piece! Aaaaaaah! Io, cane! Mamma mia, meno male che non c'avevo le cuffie! Bravo, Giammo! Bravo! Che timing oggi per levarti le cuffie! Max Payne intensifies! Madre santo di... Aaaaaah! Già, so appena arrivato, già... Buonino! Buonino! Lello, gentleman, Gino!